grazie buonasera a tutti grazie andrea grazie per l'intro grazie amici di software per questo invito questa sera sono un po lontano dalla mia comfort zone però vi racconto un argomento che mi sta appassionando sempre di più da alcuni anni ho avuto l'occasione di approfondire tra l'altro poi con gli amici del serverless meetup abbiamo avuto l'occasione di invitare anche se non un paio d'anni fa anzi l'anno scorso scusate lo scorso serverless days abbiamo avuto come special guest e quindi diciamo che è un argomento che parte un po da lontano però arriva la tecnologia arriva a trattare i tempi tecnologici in particolare questa sera parliamo di worldly maps e facciamo un focus su quella che è una strategia di azienda di prodotto insomma ogni volta c'è bisogno di definire di mappare una strategia quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione e dall'altro lato quali sono gli strumenti migliori che possiamo utilizzare molto velocemente chi sono sono luca bianchi sono cto di no experience sono cto anche di whiskey sono co fondatore del serverless meetup e organizzatore di serverless days questi sono i riferimenti se avete domande approfondimenti temi che volete discutere scrivetemi su twitter oppure su linkedin e da circa un annetto sono sia ed avvers community builder che ed avvers serverless tiro durante la mia giornata cosa di cosa mi occupo mi occupo di neaspirance è un'azienda attiva nel un gruppo ad oggi attivo nel mondo dello sviluppo software e del digital marketing sviluppiamo sia soluzioni software che prodotti ad hoc questi sono poi i nostri clienti siamo ad oggi come dicevo un gruppo che è cresciuto molto negli ultimi anni perché è importante questa cosa rispetto al discorso di questa sera perché nel momento in cui ci si trova a dover gestire una crescita così rapida e soprattutto ci si trova anche a dover gestire un'offerta di prodotti e di servizi molto ampia servono degli strumenti e quindi abbiamo iniziato ad esplorare quali potessero essere gli strumenti più utili e più adatti a mappare la nostra strategia quello che vi racconto questa sera è un po' una sintesi di un percorso che abbiamo iniziato qualche tempo fa ma che non abbiamo ancora finito perché la definizione e l'apprendimento di strumenti segue una parte teorica soltanto nella prima parte la poi è un che si svolge nel day by day nell'adattare nella finale questi strumenti al contesto pratico e le worldly maps si applicano molto bene a questa dimensione pratica ma facciamo un passo indietro parliamo di strategia ogni azienda una strategia ad esempio qua vedete una riportata la perché può essere il p off o la strategia di un'azienda che è customer focused ha un sustainable effort to the market utilizzando l'internet of things eccetera 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 quindi insomma diciamo che qualunque se io potesse io potrebbe arrivare da voi e dire a questa è la nostra strategia adesso attuale scusa luca ti fermo perché è rimasta la prima slide di presentazione vediamo quindi è rimasta la proprio la cover vediamo la tua foto share screen desktop ok siamo passati la slide successiva no vedo che stai per condividere ma non vedo la slide non so se sono il solo no infatti neanche io vedo la slide vediamo allora io vi sento bene quindi non penso di aver problemi di rete no no infatti anche la qualità dell'immagine statica perché non cambiava ok adesso è arrivata ok allora vediamo se adesso provo a fare ok sto shareando lo schermo vediamo se è cambiata allora adesso non ti vedo in presentazione vedo la seconda slide ok e adesso vedete la slide con scritto strategy no no 700 più best in e quindi rimane frizzato schermo rimane frizzato là lo schermo provo non so provo a uscire e rientrare magari e funzionerà sicuro vediamo se sarà keynote sarà sicuramente keynote adesso vediamo strategy ok allora proviamo dai proviamoci lì al caso trovo a fare quitte rientrare allora dicevo parliamo di strategia parliamo di come si può definire una strategia e partiamo da alcuni esempi ogni azienda definisce a un certo punto la propria storia una strategia e ne ha riportate qualcuna ad esempio questa azienda non faccio il nome dice che la loro strategia è customer focused che usano internet of things usano i social media e hanno l'obiettivo di costruire una learning organization e poi vedete alcuni ulteriori dettagli e vediamo un altro esempio un altro esempio our strategy is customer centric using artificial intelligence and serverless approach we plan to become a leading provider in our market e quindi vogliono poi costruire dei prodotti con i migliori standard adottando un approccio MVP e un altro esempio ancora forse una strategia ancora più precisata un'azienda che dichiara di essere digital first company helping branch to unlock their potential leveraging the endless possibilities diciamo che ci sono molti dettagli su quello che uno si aspetta di trovare in uno strategy book o comunque in una raccolta di strategie aziendali cos'è che hanno in comune tutte queste strategie? tutte queste strategie sono ciò che Simon Ward chiama business level abstraction of a healthy strategy o in maniera più compatta blah blah perché contengono un sacco di buzzwords contengono un sacco di parole che sono interessanti dal punto di vista dello storytelling sono interessanti dal punto di vista perché fanno presa sui trend topic del momento quindi c'è big data, c'è artificial intelligence, c'è machine learning ci trova anche un po' di deep learning e perché no un po' di blockchain la cosa interessante è che per il divertimento qualche anno fa un amico di Simon Wardley ha costruito questo tool che vi mostro che è uno strategy generator hanno definito un template e voi potete semplicemente facendo refresh sulla pagina generare la vostra strategia e la cosa interessante è che hanno fatto un esperimento hanno preso una decina di queste generated strategies e le hanno mandate ad aziende spacciandosi, presentandosi come consulenti di strategia e di queste 10 strategie diciamo che 4 o 5 hanno avuto successo perché i potenziali clienti li hanno contattati dicendo ah avete copiato la nostra strategia dicendo conosciamo molto bene questi elementi ci piacerebbe approfondire o dicendo siete disponibili ad essere assunti questo dà la dimensione di quanto siano diffuse strategie di questo tipo ecco la mia preferita è questa la mia strategy is digital first we will lead to a cloud based effort of the market through our use of internet of things and leaders to build an insight from data chi non vorrebbe estrarre insight from data being both collaborative and innovative our sustainable approach will drive ecosystem toward the organization cioè quindi insomma un sacco di cose fa questa strategia c'è un problema queste strategie non sono buone strategie sono l'espressione di un buone alcune volte anche di un ottimo storytelling perché danno la dimensione danno un senso di completezza e convincono anche l'interlocutore della bontà ma sono difficilmente actionable un adagio di qualche anno fa diceva che good leaders are also good storytellers e questo è vero perché quando tu devi convincere dei venture capitals piuttosto che devi convincere dei clienti a scegliere il tuo prodotto essere capace di coinvolgerli in un racconto che sia credibile è qualcosa di molto importante purtroppo questo non è così importante quando bisogna definire una strategia e il difetto che molti ottimi leader hanno che molti ottimi team leader o anche sia io hanno è che sono degli ottimi storyteller ma la storia raccontata non è direttamente applicabile serve qualcos'altro serve un approccio più pratico serve riuscire a definire in modo più preciso il contesto e soprattutto dare degli strumenti concreti a chi ascolta che deve poi attuare questa strategia per compiere delle decisioni perché se no altrimenti quello che succede è che si parte da uno scopo da una definition of purpose molto anche molto altisonante anche molto ambiziosa per poi sostanzialmente affidarsi a quello che gli inglesi gli anglosassoni chiamano gut feeling cioè a quello che mi dice la pancia più che a quello che mi dicono degli strumenti precisi ecco questo non significa che non si possa avere successo tutt'altro nel senso che alcune strategie attuate seguendo questo processo sono di successo funzionano altri invece sono dei fallimenti il problema è che nessuno riesce a capire il motivo basandosi soltanto su questi elementi non solo negli anni si sono succeduti innumerevoli tentativi di estrarre le 10 things that successful people do everyday quindi trovare dei tips and tricks e distillarli in modo che chiunque seguendoli potesse avere lo stesso successo che queste persone hanno ottenuto ecco il problema è che il più delle volte queste cose si arrivano dei fallimenti clamorose per quale motivo? ma perché quando io ascolto la storia di qualcun altro probabilmente io non sto vivendo quella stessa storia non mi trovo nelle stesse condizioni c'è qualcosa di molto piccolo ma diverso ma fondamentalmente diverso che nel momento in cui applico gli stessi principi al mio contesto i risultati sono i più disparati sono completamente diversi è un po' se vogliamo come se noi stessimo giocando a scacchi in un mercato in cui tutti giocano a scacchi cioè immaginiamo il mercato come un insieme di giocatori di scacchi in cui noi noi giochiamo a scacchi ma non siamo in grado di vedere la scacchiera quindi noi vediamo magari le mosse che fanno anche gli altri player quindi vediamo che muovono il pedone poi il pedone poi la regina vediamo che altri muovono il cavallo e vediamo anche il risultato vediamo che alcuni vincono delle partite che alcuni perdono che alcuni vincono dopo tanto tempo che alcuni perdono molto velocemente e semplicemente avendo questa sequenza di mosse quindi pedone avanza di uno cavallo muove due in avanti uno a sinistra piuttosto che regina muove in diagonale di tre caselle noi cerchiamo di riprodurre una strategia di implementare una strategia ecco il problema è che non vedendo la scacchiera quindi non avendo un perimetro non avendo una rappresentazione visuale di dove queste mosse avvengono e di quale risultato producono noi di fatto stiamo semplicemente giocando alla cieca stiamo semplicemente emulando dei comportamenti senza capire il senso e qui effettivamente che questa è un certo tipo di affiattura ed è un certo tipo di mossa che è stata codificata e che quindi la contromossa attesa o la contromossa applicabile è di un certo tipo ecco questo è un po' quello che succede quando ci si basa su una strategia senza trovare senza andare ad analizzare dei principi che vanno a determinare che potono a determinare questa strategia ed è un po' la situazione in cui si è trovato Simon Worley circa una quindicina di anni fa nella posizione di CEO di un'azienda era CEO di Fandango e si è reso conto però che stava sostanzialmente definendo la strategia della sua azienda giocando alla cieca cioè guardando che cosa funzionava sul mercato cercando in qualche modo di indovinare in base più in base a fattori di feeling fattori di quello che gli diceva la pancia che quello che basandosi su elementi concreti e cercare così di identificare una strategia che in qualche modo veniva trasmessa la sua prima linea che in qualche modo cercava di attuarla realizzando i propri prodotti ecco a un certo punto Simon Worley si sente perso e cerca di farsi una domanda di rispondere a una domanda che è da che parte si può iniziare per costruire una strategia che sia solida trova questa risposta andando molto indietro in un antesegnale un po' molto antisonante cioè nelle parole nel libro di Sun Tzu Sun Tzu scrive circa 500 anni prima di Cristo quindi 2500 anni fa scrive un testo che è un enorme testo di strategia è un monumento alla strategia militare e che però viene rivisto e viene adattato più volte viene studiato più volte nel corso dei secoli per come manuale di riferimento alla strategia ecco Sun Tzu definisce quello che viene chiamato the strategy circle è una serie di cinque passi che portano alla definizione della strategia comincia con la purpose lo scopo quello che determina il perché un'azienda esiste il motivo per cui un esercito muove guerra piuttosto che un'azienda si propone al mercato però poi lo scopo deve essere seguito da uno studio del landscape dello scenario dell'ambiente in cui ci si trova il climate quindi il clima quelle che sono le condizioni che determinano il fatto di mandare ad esempio le truppe per la via delle montagne piuttosto che mandarle sulla costa e questo ad esempio può essere determinato dal se ci troviamo in inverno piuttosto che in estate e può avere due esenti molto diversi quindi il climate ha un impatto al climate succede la la doctrine quindi quelli che sono i capisaldi gli elementi sempre validi sempre riconosciuti in qualunque in qualunque ambiente in qualunque ambito quindi gli elementi che possono prescindere dal contesto fino a poi ad arrivare alla leadership quindi al comando vero e proprio ecco quello che si vede nella maggior parte delle strategie che solitamente vengono adottate è che sono ben chiari il primo e l'ultimo passo quindi la power course quasi ogni azienda ad oggi sa iniziare la propria power course il proprio scopo di esistenza è chiara in qualche modo la leadership ma non è chiaro il processo in cui si arriva a definire ad esempio di investire in un determinato prodotto piuttosto che di investire in un determinato servizio da offrire al mercato piuttosto che nell'andare a decidere di sviluppare un determinato feature piuttosto che altre ecco manca un modo per gestire il le altre componenti quindi in quanto avere degli imperativi che determinano e ci dicono in che modo muoverci e che cosa dobbiamo fare ma poi abbiamo bisogno anche di capire l'ambiente abbiamo bisogno di capire anche quali sono le situazioni in cui ci troviamo e il contesto in cui ci troviamo quali sono invece se esistono dei capisaldi che prescindono dal contesto e poi decidere come agire non solo la strategy circle parte dalla purpose ma anche la purpose stessa deve essere meglio specificata perché la purpose se vogliamo è l'imperativo morale che determina ciò che un'azienda fa lo scopo di un'azienda è come come avrete magari sentito dire è il why di un'azienda ecco ma in realtà ci sono due tipi diversi di why esiste il why of purpose perché giochi a scacchi perché questa azienda lavora in questo mercato perché la mia azienda è una software company e ad esempio applicando il gioco di scacchi perché giochi a scacchi per vincere per battere all'avversario ma in realtà è necessario specificare anche un why un po' più profondo un why più pratico quello che si chiama il why of movement per quale motivo muovo la regina in questa posizione piuttosto che il pedone in questa posizione stiamo sempre parlando del why ma è una variante è un flavor più pragmatico più pratico e riportandolo alla strategy circle di Sun Tzu possiamo dire che quello che è il primo quinto del nostro cerchio la purpose risponde al why of purpose per quale motivo ci alziamo al mattino per quale motivo la nostra azienda esiste gli altri quattro quinti rispondono al why of movement perché facciamo una mossa perché decidiamo di investire in un prodotto in un servizio piuttosto che in un altro ecco andare sul mercato andare incontro al mercato avendo chiaro soltanto il why of purpose è come andare a giocare a scacchi sapendo che voglio vincere ma non avendo capito se vorrò aprire la partita muovendo di pedone o muovendo di cavallo ancora andando oltre si può semplificare questa struttura in tre azioni principali che sono quelli che costituiscono che fanno il framing della partita come dicevamo il why of purpose è il gioco che noi facciamo è il gioco che noi vogliamo fare ma per fare questo gioco abbiamo bisogno di osservare quindi di avere un momento una fase di definizione della nostra strategia in cui osserviamo quello che è l'ambiente quello che è lo scenario una fase in cui una fase in cui decidiamo e capiamo in che modo orientarci in questo ambiente è una fase in cui decidiamo e attuiamo queste decisioni ma e questo ci riporta ancora la strategia circle per cercare di spiegare meglio l'importanza degli altri quattro quinti della torta voglio raccontarvi una storia la storia di questo signore Temistocle oddio diciamo magari la storia di questo signore il vero Temistocle quindi non il Temistocle di Hollywood ma il Temistocle che nel 300 a.C. circa si trovò ad affrontare la più grande minaccia per la Grecia libera o comunque per quella che loro credevano essere convinti fosse la Grecia libera la minaccia dell'impero persiano immagino che tutti conoscano la storia dell'attacco persiano alla Grecia Temistocle generale di Atene aveva un compito il suo compito era quello di salvare la città di Atene la città di Atene che è una città-stato per quanto prosperosa certamente non era in grado di far fronte a un esercito il più grande esercito mai visto a un esercito che contava decine di migliaia di schiavi che potevano combattere che potevano essere schierati in battaglia ecco la mossa dell'esercito persiano era molto semplice attaccare Tebe e poi da Tebe arrivare a conquistare Atene e le altre città della Grecia l'idea di Temistocle era altrettanto semplice fare in modo che questo piano fallisse ecco voi immaginate Temistocle davanti al consenso dei cittadini ateniesi davanti al parlamento ateniese che si presenta in parlamento e invece che portare questa mappa per quanto semplice convinciamo gli spartani a muovere a nord noi schieriamo la flotta allo stretto di Artemisium in modo che i persiani per non ingaggiare una battaglia navale virino verso la costa e che gli spartani possono alla testa di qualche centinaia di un manipolo di Atenesi possono far fronte nello stretto passo delle Termopili abbastanza semplice da spiegare immaginate pensate se Temistocle invece che andare con questa mappa davanti al parlamento ateniese si fosse recato dicendo ma io non ho idea di come siano disposte le nostre truppe non so dove siano i persiani so che si stanno attaccando quindi non so niente non so come muovere ma ho una svuota analisi e quindi e quindi state tranquilli perché io so che i nostri punti di forza sono che noi abbiamo gli spartani e che sono capaci di combattere e siamo molto motivati a non finire schiavi non diventare schiani certo è vero gli efori stanno un po' cercando di evitare che gli spartani vadano in guerra e al tempo stesso un po' di i persiani stanno schierando le truppe stanno mandando le truppe via terra però abbiamo una grande opportunità quella di liberarci degli persiani se tutto va bene anche di liberarci degli spartani e sì c'è il pericolo che invece ci siano i persiani a vincere e poi comunque l'oracolo dirà che tra qualche milione di anni verrà fatto un film ad Hollywood sul tema ecco immaginate Tenisto che presenta una svuota analisi sul Parlamento atenese nel più completo sconcerto questo per quale motivo perché voi che cosa usereste se doveste comunicare e determinare la strategia per una battaglia una mappa ecco e che cosa usiamo quando dobbiamo determinare la strategia per una nuova linea di business uno svuot esattamente quello è il problema allora questo problema ci porta a una domanda che cos'è una mappa per quale motivo una mappa può essere utile e soprattutto quando noi decidiamo parliamo di abbiamo una mappa ad esempio mind maps business process maps system maps quindi abbiamo un sacco di mappe ecco ma queste mappe sono veramente utili cioè cos'hanno in comune queste che noi oggi chiamiamo mappe lato business chiamiamo mappe concettuali mappe di sistema mappe di business ecco la cosa che hanno in comune è che nessuna di queste è una mappa nessuna di queste è una mappa perché in una mappa in ciascuna mappa lo spazio ha un problema ha un senso scusate se io oriento la mappa in un modo diverso e non ho dei punti di riferimento la mappa perde il significato voi immaginate di avere una cartina che vi spiega in che modo arrivare alla vostra spiaggia preferita dall'albergo e in questa cartina perdete i nomi delle vie perdete ogni angolo di riferimento e la ruotate sotto sopra e poi pensate di orientarvi ancora riuscite perché una mappa ha alcune coordinate ecco immaginate di fare la stessa cosa con una mind map immaginate di prendere una mind map di cambiare l'orientamento sì è uguale rimane uguale a se stessa ma perde il significato non solo una mappa viene utilizzata nel senso etimologico del termine per fare due cose la prima è fornire un orientamento cioè ti dico dove sono e dove devo andare dove voglio andare la seconda cosa è per depersonalizzare quindi per rendere non legato a chi presenta la mappa ciò che voglio specificare ciò che voglio chiarire questo è molto importante perché una mappa non serve a raccontare una storia una mappa racconta un piano racconta delle azioni queste azioni possono essere buone o possono essere cattive possono essere vantaggiose o svantaggiose indipendentemente da quanto è capace di convincerci o di raccontarci una storia credibile e chi ce le presenta questo è molto importante anche perché ci porta a vedere che cosa è una mappa una mappa ha un punto di riferimento una mappa in una mappa la posizione dei vari pezzi su questa mappa dei pezzi di scacchi sulla scacchiera delle città su una mappa topografica hanno un senso e hanno un senso perché la loro posizione è determinata relativamente al punto di riferimento è determinata relativamente al nord è determinata relativamente al al bordo della scacchiera è determinata relativamente perché questo mi permette di avere consistenza di movimento cioè mi permette di determinare che non tutte le strade che portano da un punto A a un punto B hanno la stessa importanza hanno lo stesso peso un esempio immaginiamo di voler raggiungere di trovare il modo migliore per andare da Brescia a Bergamo un collega vuole da Brescia raggiungere la città di Bergamo però è un collega che non usa le mappe non usa non ha il navigatore usa e è dotato di una mind map e quindi lui vede Milano Bergamo 50 km circa Milano Brescia 95 km e poi gli dite ok ti aspettiamo a Bergamo domani mattina il problema è che questa mind map è esattamente uguale a quest'altra mind map è una mind map non ho nessuna particolare e peculiare posizione di Bergamo rispetto a Brescia che viene specificata non solo questo fa sì che io stia perdendo un punto molto importante il punto molto importante è che quello che mi suggerisce la mind map è che per andare da Bergamo a Brescia io devo ahimè percorrere all'incirca 150 km mentre in realtà nel momento in cui Milano Bergamo Brescia e Milano sono disposti su quella che realmente è una mappa c'è una calza topografica vedo che esiste una strada che è una strada molto più breve ecco il problema di una rappresentazione che non è una rappresentazione spaziale e viene utilizzata per trovare un orientamento e muoversi in un determinato ambiente o landscape che dirsi voglia è esattamente questo perdo molte informazioni perdo quelle informazioni che non sono specificate da chi vuole raccontarmi la storia di quella mind map questo è il motivo per cui tornando alla nostra battaglia delle termopili abbiamo un punto di riferimento quindi qualunque sia l'orientamento in cui io ottengo questa mappa so orientarla in un modo per me utile fruibile abbiamo delle posizioni le posizioni delle truppe e delle città greche e soprattutto abbiamo una consistenza di movimento sposto l'armata da Tebe verso le termopili che non è uguale a sposto la mappa da Tebe verso Artemisium che non è sposto l'armata da Tebe verso a Tebe come si costruisce una mappa ecco Samuel Worley arrivato alla comprensione al punto che quello di cui aveva bisogno per definire la propria strategia era una mappa per costruire una conoscenza per costruire il proprio wild movement quindi mappare il landscape capire le condizioni vedere quali azioni andavano intraprese come intraprenderle parte utilizzando come caso d'uso la propria azienda la propria azienda che era un'azienda un'azienda di sviluppo software che sviluppava prodotti nell'ambito degli online photo service parliamo del 2004 2005 quindi siamo circa una quindicina di anni fa e lui inizia a mappare il proprio business la propria strategia di business su su un foglio bianco inizia a definire il proprio anchor quale può essere un punto di riferimento il punto di riferimento solitamente sono gli stakeholder quindi chi si aspetta chi ha bisogno o si spera abbia bisogno della nostra azienda ad esempio nel loro caso il customer il customer di solito il cliente è sempre un ottimo stakeholder è sempre un ottimo anchor è sempre un ottimo punto di riferimento e poi da lì si inizia a ragionare su quali sono i need di cosa ha bisogno il cliente il cliente ad esempio nel loro caso aveva bisogno di stampare le proprie fotografie ha bisogno di salvare le proprie immagini ha bisogno di magari poter costruire un sito web o di manipolare le immagini quindi si inizia a mappare i bisogni del cliente e poi si scende nella catena di visibilità andando a costruire una catena di bisogni quindi si va per ciascuno di questi punti a vedere la costruzione di un sito web di che cosa ha bisogno c'è bisogno ad esempio di un ambiente in cui far girare il nostro codice c'è bisogno magari di un CRM che ci è collegato entrambe queste cose hanno bisogno di potenza computazionale la quale ha bisogno di potenza i quali hanno bisogno di un data center e quindi si scende quella che è questa catena con un approccio che è quello del moving backwards dal cliente dal customer dai propri stakeholder perché è importante partire avere come anchor il customer perché è ciò che determina il successo l'ostendibilità di un'azienda di un'iniziativa però possono esserci anche altri stakeholder ad esempio in un ambiente regolamentato non come quello bancario non ci sono soltanto i clienti ma ci sono anche i regulator ma ci sono anche magari degli organismi sovranazionali e quindi però da lì si riesce a costruire definiti i propri stakeholder definiti i propri punti di riferimento è possibile costruire una mappa di bisogno di necessità qual è la peculiarità di questa mappa di necessità è che via via che si va a dettagliare la mappa dettagliare la catena di necessità si vede che i punti che sono più lontani quindi sono sulla linea più lontana del grafo siamo ancora in un grafo in questo caso la linea più lontana del grafo rispetto al customer sono quelli che hanno la minor visibilità se vogliamo andando a ordinare questi elementi questi componenti questo grafo rispetto alla visibilità possiamo costruire e dare una rappresentazione su una dimensione che è quella della catena del valore nella parte più visibile avremo le componenti più caratterizzanti quelle che il mercato vede quelle che il mercato compra e poi a ritroso avremo le componenti invisibili quelle che però fanno funzionare il sistema questo cosa significa significa che senza qualcosa che fa funzionare i miei server o che mi dà la possibilità di far funzionare il mio codice nel caso in cui io sceglia tecnologia serverless non riuscirò a fornire un servizio di photo storage online o un servizio di stampa online però che è quello che vedranno i miei clienti il fatto che magari il data center non sia reliable e improvvisamente prenda fuoco qualcuno ha sentito di strasburgo ecco prenda fuoco fa sì che io vada a perdere tutto ciò che dipende dalla catena del valore e che fa fornire un servizio al mio cliente non siamo ancora non possiamo ancora parlare di una mappa possiamo parlare di una catena del valore una catena di bisogni se però poi andiamo ad aggiungere un'ulteriore dimensione e quindi andiamo ad aggiungere l'evoluzione tecnologica della tecnologia e quindi andiamo a posizionare questa catena su un quadrante su un asse che ci permette di discriminare tra fasi di genesi fasi di prototipazione di una tecnologia piuttosto che la fase di sviluppo custom all'interno di quella tecnologia quindi la fase in cui non sono più nell'ambito del POC ma una tecnologia è matura si sta avviando verso la maturità però viene ancora sviluppata e implementata con dei progetti custom in modo con delle logiche diverse da cliente a cliente verso poi magari si evolve verso una strategia di prodotto in cui esistono vengono ad affermarsi dei prodotti che determinano a livello di scenario magari polarizzano la domanda a livello di scenario e infine quando la tecnologia diventa commoditizzata ecco aggiungendo questa seconda dimensione recuperiamo un sistema di assi recuperiamo un sistema di orientamento di conseguenza recuperiamo anche la possibilità di trasformare quello che era il nostro il nostro grafo in una mappa perché perché il fatto che online photo storage nel 2005 si trovasse a livello di custom built starsi in questa posizione e non in questa posizione o non in questa posizione è determinato dalla maturità del mercato per quella tipologia di tecnologia in quel momento allo stesso modo l'energia elettrica la corrente elettrica è qualcosa che è commoditizzato e quindi è completamente spostato a destra perché questo è utile questo è utile perché mi dà una dimensione mi permette di capire quali sono i percorsi che dal mio cliente arrivano fino a toccare gli elementi di cui ho bisogno non solo mi permette di capire che cosa è a disposizione mio e della concorrenza ciò che è prodottizzato sul mercato o prodottizzabile e ciò che invece è già commoditizzato e quindi è completamente disponibile totalmente a disposizione della concorrenza quindi dei miei concorrenti e ciò che invece è ancora oggi magari viene sviluppato ha dei costi anche di sviluppo del know-how o di prototipazione e quindi posso andare a capire dove si trovano tutte le varie componenti della mia idea e non solo posso anche andare a capire dove si trova la mia idea ma ancora di più posso andare a fare un ragionamento per capire quali sono le regole che influenzano questo gioco e chiedermi iniziare a chiedermi se esistono delle regole universali oppure no all'interno di questo di questo gioco in particolare posso andare a vedere quali sono le spinte che stanno migliorando e che stanno facendo evolvere alcuni componenti della mia catena del valore ad esempio un primo pattern che è facile determinare da una mappa ma si vede è l'evoluzione verso una maggiore efficienza dei vari componenti tutto evolve e tendenzialmente tutte le componenti di un sistema di uno schema tendono a evolvere nel tempo questo è molto importante perché le mappe di Wordlay sono uno strumento di supporto costante alla strategia quante volte avete realizzato una mind map quante volte l'avete mostrata l'avete magari anche presentata e discussa e poi l'avete archivata e non l'avete più utilizzata ecco le mappe di Wordlay nascono con lo scopo di essere uno strumento a supporto di una qualunque strategia e anche una verifica costante perché tutti i pezzi su questa scacchiera su questa mappa si muovono nel tempo alcuni pezzi siete voi a muoverli perché ad esempio sono quelli che determinano il vostro prodotto o il vostro servizio altri pezzi è l'evoluzione tecnologica che li spinge verso destra li spinge verso la cumulizzazione quindi l'efficienza è un driver ma l'efficienza viene in parte contrastata dall'inerzia per quale motivo perché alcune aziende che hanno fatto grossi investimenti quando queste tecnologie non erano ancora commoditizzate non erano ancora se vogliamo mainstream oggi queste tecnologie sono mainstream iniziano a vedere fluire i ricavi dall'adozione di queste tecnologie cercano di non innovare o in qualche modo pongono a se stessi barriere sull'innovazione un esempio che mi piace tantissimo è quello di Blockbuster chi ha qualche anno sulle spalle come il sottoscritto si ricorda Blockbuster uno dei più grandi servizi di video rental al mondo non è già videocassette videocassette che poi dimenticavamo di riportare poi correvamo a notte tempo a riconsegnarle era fantastico ecco la domanda la cosa che mi ha stupito è quando ho scoperto che Blockbuster è stato anche il primo servizio a vendere online i propri film vendere online le proprie videocassette il primo servizio a vendere online l'acquisto dei propri film il primo servizio a vendere online a sviluppare una piattaforma di video streaming non è stato Netflix è stato Blockbuster ma tra Blockbuster e Netflix il primo servizio ad essere out of business è stato Blockbuster questo per quale motivo? questo perché il fatto che un'azienda veda l'innovazione nel momento in cui l'azienda non riesce a capire che i componenti su cui si basa la propria strategia la catena del valore che portano sul mercato si stanno spostando verso l'estero e non riesce a cavalcare questi componenti riesce ad adottare questi elementi e quindi non riesce a spostarsi cambiando le proprie fondamenti non riesce a spostarsi verso l'estero il rischio è che un competitor andando a costruire su questa catena a minor valore su questa catena a minor effort e a minor costo riesca a fornire lo stesso risultato buttando di fuori il mercato non solo l'efficienza la ricerca di efficienza abilita e spinge aziende che lavorano in quei settori a vincere l'inerzia e a innovare di conseguenza se oggi noi basiamo il nostro business sulla simmetria informativa cioè sul fatto che esistono magari delle soluzioni più rapide più efficienti per fare un determinato task ma non tutti le utilizzano non tutti le conoscono ecco vedremo ben presto che arriverà qualche azienda che avrà come obiettivo come core business il fatto di portare queste democratizzare come si dice oggi questa tecnologia e portare le tecnologie al pubblico più alto possibile un esempio per tutti quello che sta facendo Amazon Web Services con l'AI e il machine learning uno degli obiettivi dei pillar di Amazon Web Services è quello di portare spostare tutto ciò che è custom made nell'ambito dell'AI verso modelli managed modelli gestiti che magari servano un enorme ventaglio di possibilità un enorme ventaglio di possibili clienti non per tutti la classifica di image classification io ho un'immagine voglio che un modello di machine learning mi dica cosa c'è in questa immagine fino a qualche anno fa il modo per servire il 100% di quelli use case era sviluppare da zero quindi ci troviamo esattamente in questa in questa colonna sviluppare da zero un modello custom poi è arrivato recognition poi sono arrivate le google vision API quindi sono arrivate delle API che permettono di gestire questo processo in modo quasi completamente commoditizzato o comunque con un modello totalmente pay per use il che vuol dire che esistono ancora dei modelli custom ma che il mercato di chi sviluppa modelli custom per la classificazione delle immagini sia molto ristretto e quindi oggi ad esempio si sviluppano modelli più complessi o comunque si sviluppano modelli a maggior valore o insieme di modelli in quell'ambito o modelli su cose differenti tipo NLP o quant'altro ecco questo porta alla creazione di sistemi a maggiore estrazione sistemi maggiormente complessi i quali sono però comunque un interessante scenario un interessante mercato per chi vuole innovare perché perché vedono una possibile clientela quindi quello che noi oggi quello che oggi noi magari gestiamo con difficoltà e che costituisce un differenziale perché è dato dalla complessità del mercato attenzione perché è possibile che alcuni big player nel futuro vadano a erodere quella complessità e quindi vadano a fornire le soluzioni molto con la curva dell'apprendimento con la curva della barriera dell'ingresso molto più ridotta dove sta la nostra sopravvivenza nel capirlo nel mapparle e nel riuscire ad adottarle non appena sono disponibili sulla metodologia questo è un punto importante perché un altro un altro pattern interessante è quello della metodologia la metodologia è una può ricadere nella dottrina piuttosto che nel clima nel climate della nostra strategia quale metodologia scegliere è un tema ricorrente ecco ci sono delle metodologie che dipendono dal contesto non solo noi abbiamo diversi focus in funzione in base al fatto che ci troviamo in diversi scenari in diversi momenti della nostra evoluzione quindi per alcune cose in alcuni momenti quando siamo nella fase di genesis o di custom built noi ci focalizziamo su ridurre i costi del cambiamento perché perché il cambiamento è la norma è qualcosa di completamente che va abbracciato perché è qualcosa di completamente ordinario stiamo sperimentando stiamo sviluppando testando il mercato vedendo cosa funziona e cosa no e quindi dobbiamo metterci nelle condizioni di ridurre quanto più possibile il costo del cambiamento nel momento in cui andiamo a sviluppare un prodotto o stiamo adottando un prodotto ecco il focus è invece quello di ridurre gli sprechi i prodotti nascono esattamente per questo scopo nascono per imparare dal mercato e ridurre lo spreco per noi o per i nostri clienti fino a poi a quando ci si trova in uno scenario in un ambiente di commoditizzazione in quel caso il focus è sulla riduzione della deviazione rispetto al processo oggi l'ambito di una lunga catena meccanica di creazione di bulloni di viti è qualcosa dove la deviazione rispetto allo standard la procedura standard della fabbrica di creazione di un manufatto industriale è qualcosa che ha un costo e si cerca di ridurre il più possibile quel costo e quindi diverse metodologie servono a diversi ambiti una metodologia agile è molto forte nel ridurre i costi del cambiamento ma ad esempio si vede come una metodologia lean che è debole in un ambiente ad alta incertezza in un ambiente in cui sto ancora cercando di determinare definire in che modo raggiungo un determinato scopo perché non ho qualcosa da testare con il mercato diventa forte quando il mio obiettivo è quello di sviluppare un prodotto a maggior ragione se voglio sviluppare un prodotto a scaffale e invece è debole in ambito commoditizzato perché ho poca sperimentazione ho poco apprendimento e quindi ho bisogno di un prodotto più solido allo stesso modo una tecnica che è l'antitesi delle metodologie agili come l'outsourcing o il 6 sigma o il fatto di trattare un sistema un tema una componente a black box è qualcosa che è molto forte e si afferma in un ambiente fortemente commoditizzato ecco posso immaginare purtroppo non ci vediamo posso immaginare che la reazione di molti di voi sarà questa cosa stai dicendo è eretico ecco è vero anch'io con la prima volta che l'ho sentito ho detto no ma scusatemi cioè le metodologie agili sono il futuro cioè noi ci siamo detti per degli anni che dobbiamo evolvere verso metodologie agili e qua vengono a dirmi che no sì per alcune cose in realtà la metodologia adatta dipende dal contesto un approccio one size is all è un approccio sbagliato per definizione in particolare le metodologie agili ad esempio se voglio andare a costruire queste tipologie di servizi sono fondamentali perché non so quali sono le caratteristiche che questi servizi devono avere non so quali sono magari anche le tecnologie che devo utilizzare allo stesso modo queste componenti sono componenti che sono disponibili off the shelf se guardo fuori dall'azienda o che se devo sviluppare internamente andrebbero sviluppate con un approccio lean perché sono componenti che non sono più dei POC non sono custom built esistono dei prodotti e quindi se guardo internamente all'azienda e quindi mi sto dotando di un CRM oppure dall'altro lato sto sviluppando il mio sito web o il mio CRM per particolari esigenze mie un approccio MVP o un approccio lean alla ricerca del prodotto migliore è la cosa migliore e poi nel momento in cui vado a ragionare e mi trovo ahimè a dover fare i conti con delle cose che sono commoditizzate o in via rapida di commoditizzazione vince l'outsourcing non ha senso andare oggi a meno di vincoli estremamente stringenti che devono essere però dimostrati e che vanno a insistere su questa barriera di inerzia non ha senso oggi andare a costruirsi una propria centrale elettrica non ha senso andare oggi a costruirsi anche un proprio data center o ha poco senso andarsi a costruire un proprio data center oggi e quindi diciamo che riusciamo ad avere dalla mappa anche una guida sulle metodologie alcuni alcuni punti fondamentali li ho raccolti qua ma sono i principi che abbiamo determinato e la domanda di fondo però quando mi trovo a fare il product manager o quando mi trovo a fare il CEO della mia azienda o quando mi trovo a dover capire dove mettere i soldi dove li metto dove investo ecco il consiglio è ho varie possibilità investo qui qui lì e sono tutti dei safe bet sono tutti dei buoni dei buoni ambiti questo perché è qualcosa che è in via di rapida comoditizzazione se il mio obiettivo è quello di andare a servire un mercato comoditizzato o comoditizzare comoditizzare un mercato ad esempio la scelta di Amazon è stata investo qua in questa parte se io sono molto alto molto in alto se voglio posizionare la mia azienda molto in alto nella catena del valore e quindi voglio posizionarla verso il customer in questo contesto in questa mappa probabilmente ha senso investire qua oppure se invece voglio fare il disruptor e voglio innovare un ambiente ha senso investire magari anche nello sviluppo di una nuova tecnologia per cambiare radicalmente ecco una cosa che ha poco senso e andare a mettere i nostri soldi nel maternità troppi soldi più di quello che è necessario in queste componenti in questi elementi perché? perché sono elementi che sono soggetti a una forza che li spinge verso la fase successiva considerate che man mano che mi sposto verso destra quello che succede è che il costo di sviluppo il costo di realizzazione tende a diminuire il costo di realizzazione di una centrale nucleare quando si stavano costruendo aveva un costo altissimo il costo di acquisizione della corrente elettrica è centesimi di euro non certamente quello di una centrale nucleare cosa abbiamo visto in questa lunghissima in questa lunghissima carrellata innanzitutto i cinque elementi di Sun Tzu per la definizione di una strategia e il mio consiglio è di partire da lì perché c'è molto valore in questi elementi nella mappatura di questi elementi soprattutto capire la differenza tra why of purpose e why of movement e quali di questi elementi vanno a determinare il why of purpose e quali vanno a determinare il why of movement e soprattutto la cosa importante è che per muoverci quindi per agire su un mercato dobbiamo capire l'ambiente dobbiamo capire dove disporre le risorse che abbiamo siano queste persone siano queste competenze siano queste fondi soldi per l'acquisto di tecnologia e soprattutto perché se no ci stiamo muovendo alla cetta abbiamo bisogno di una mappa per capire l'ambiente e le worldly maps sono mappe per mappare una strategia di business non solo quando io ho una mappa e ho una visione chiara di quello che succede nel mio ambito nel mio ambiente posso anche andare a identificare alcuni pattern e quindi posso capire anche cosa sta succedendo e quali condizioni meteo influenzano la mia azione e la mia strategia e poi la cosa importante è attenzione perché non è sbagliato pensare che una dottrina i principi dello sviluppo software che vanno per la maggiore di modi in questo momento siano universalmente generalizzabili dipendono dal contesto l'ultimo punto tutto questo non serve a nulla se non porta a un'azione se non porta a una scelta strategica alla scelta di faccio questo e non quello l'obiettivo delle worldly maps non è mappare un universo e poi trovarsi a non decidere ma è dare degli strumenti per fare delle scelte e prendere decisioni consapevoli di ciò su cui si gioca e si scommette il futuro della propria azienda alcune risorse che possono essere utili Samuel Worley ha finalmente qualche settimana fa pubblicato un libro è un libro liberamente scaricabile trovate sia gli articoli su Medium che compongono il libro sia l'ebook potete scaricarlo potete leggerlo dal Kindle dal tablet come volete trovate anche dei video online quindi se volete una fast track ci sono alcuni video tra cui poi di Serverless Days di 2020 di Simon Worley trovate delle risorse molto interessanti e anche molto dettagliate su questo gruppo GitHub c'è un tool molto carino che purtroppo non abbiamo il tempo di non ho il tempo di mostrarle questa sera per mappare per programmare le worldly maps il che significa che posso andare a definire dei componenti degli anchor e posso andare a costruire la mia worldly map la cosa interessante c'è anche l'estensione per Visual Studio quindi potete poi vederle e crearle da Visual Studio la cosa carina è che dandone una rappresentazione testuale è possibile poi anche versionare la vostra worldly map come dicevo le mappe di worldly sono uno strumento che viene utilizzato uno strumento live uno strumento che viene utilizzato e aggiornato nel tempo in un senso se vengono aggiornate nel tempo di conseguenza poter versionare le proprie mappe è un buon modo per versionare usare il gif sulla propria strategia un un riferimento interessante è quello di Boiling Frogs che è un un articolo molto bello del GCHQ dove parla della sindrome della rana bollita non vi svelo altro magari sarà materia per un altro talk se volete dei riferimenti vi consiglio di seguire su Twitter Simon Wardley Alexander Simovic e Goiko Adzic sono due tra i primissimi fondatori di meetup sulle Wardley Maps in Europa sono anche entrambi AWS Heroes sono molto attivi anche con presentazioni e talk sull'argomento e quindi sono decisamente un safe bet e peraltro sono anche molto attivi nel mondo serverless detto questo vi ringrazio mi scuso se ho sporato di qualche minuto il limite ci erano dati delle 20.05 ma mi perdoneranno gli organizer abbiamo assolutamente assolutamente no cioè nel senso assolutamente non mi perdonerete no 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 ti perdoniamo ti perdoniamo assolutamente è stato molto interessante abbiamo delle domande in chat noi abbiamo un sistema che adesso appunto Angelo ha pubblicato in chat dove andrà poi lui a leggere le domande che appunto le fai vedere Angelo o le leggisci a farle vedere tu? no non riesco va bene allora dammi un secondo ne approfitto per bere ecco ne approfitto anche per una richiesta dato che come dicevo all'inizio è un argomento che a me piace molto ma un po' fuori dal mio comfort zone vi ripropongo i miei riferimenti se avete domande feedback anche mi ha annoiato a morte era meglio hai fatto raffreddare la pizza che mi stavo aspettando piuttosto che le world e il mercy mi hanno cambiato la vita mandatemi dei feedback su twitter scrivete mi interessa sapere la vostra opinione in generale ogni volta che ho l'opportunità e la fortuna di fare un talk ma in particolar modo questa sera perché davvero parlo di un argomento molto interessante ma anche abbastanza lontano dagli argomenti tecnologici di cui di solito parlo ok Luca ti rubo un attimo la condivisione dello script mi serve per poter proiettare le domande eccoci ne vediamo tre in totale quindi Luca se riesci a leggerla dalla condivisione se no te la come si versionano queste mappe ha senso storicizzare la strategia per poter guardare indietro e capire le scelte che sono state fatte perché sì assolutamente sì il modo migliore per affinare la strategia è vedere come è evoluto nel tempo e come evolve nel tempo non sono uno strumento che dal primo istante vi dirà tutto di qualunque cosa non solo richiedono anche un po' di pratica quindi inizierete a modellare la mia prima worldly map tra l'altro c'è un template molto interessante di Miro per chi usa Miro molto carino come template la mia prima worldly map aveva qualcosa come 200 bullet point ed era totalmente illegibile poi inizi a capire quali elementi ha senso raggruppare quali no e la affini e soprattutto poi vedendo quali elementi evolvono più velocemente di altri o meglio di altri riesci anche ad affinare la strategia stessa detto questo versionare nel tempo vuol dire anche tenere traccia di come cambia l'ambiente come cambia l'landscape parlavamo dalla intro la slide di intro di un ambiente che cambia molto velocemente dove c'è una forte incertezza dovuta anche ad altri player la si stima che una delle cause se non la causa di fallimento più frequente di un'idea per una startup o di un'idea di prodotto per un'azienda consolidata non sia il fatto di non arrivare a realizzarla ma sia il fatto di finire fuori mercato fuori mercato perché perché non si erano accorti che le fondamenta su cui loro appoggiavano erano su cose che avevano un alto costo nella catena del valore e mentre altri player gli avevano di fatto eroso la base fornendo degli strumenti molto più rapidi a concorrenti che costruendo quel beat su quei tool più mature e più all'alto livello di fatto sono diventati i loro competitor in una frazione del tempo e ecco se utilizzate il plug-in per viso studio che vi ho mostrato prima potete anche addirittura versionarle in un repository git però forse richiede un certo livello di malattia mentale ok passiamo alla prossima allora è possibile creare una mappa esecutiva a senso non ho capito la domanda quindi se magari in chat mi date qualche dettaglio può anche attivare il microfono sì esatto ciao sono Davide sono io che ho scritto nel senso che qui si è parlato con le world maps di strategia ma di solito la strategia poi segue l'esecuzione spesso e volentieri ovviamente definendo una strategia di business però poi sono diciamo le singole persone i team che dovranno eseguire quella strategia e quindi mi domando se ha senso avere o delineare in qualche modo una mappa esecutiva per esempio nell'azienda in cui lavoro tra poco introdurremo OKRs un sistema di goal settings utilizzato largamente Intel Google e altri altri che è un modo per effettivamente vedere come focalizzarsi su quello che è importante però poi anche vedere le misure di quanto fatto se effettivamente abbiamo raggiunto l'obiettivo oppure no quindi mi domando a fronte di questo visto che comunque di per sé una mappa ha un valore visivo ma è sicuramente più significativo che le parole mi domando quindi se anche una mappa esecutiva possa essere realizzata allora ti do la mia personale risposta non so se Simon Warby ha trattato l'argomento o meno secondo me sì perché ha un valore enorme nella nella condivisione soprattutto nel momento in cui tu stai eseguendo un piano stai eseguendo un'azione sia questa la definizione di un sistema di obiettivi piuttosto che la definizione di un organigramma piuttosto che la fusione di due aziende e quant'altro tu hai o la creazione di nuovo prodotto hai bisogno di condividere una determinata strategia e di avere tutti sulla stessa pagina quello che ci dice normalmente quindi il fatto di usare una mappa per finalità esecutive cioè per ottenere anche per raccogliere anche magari dei feedback su come sta andando quindi andare a overloadare passatemi il termine la mappa di wordplay andando ad aggiungere ad esempio se un obiettivo di shift da un punto a un altro di un determinato componente è stato traguardato o viene traguardato o vengono introdotti dei blocchi inerziali è qualcosa che secondo me ha perfettamente senso non solo è qualcosa che aiuta a esplicitare i vincoli e dà chiara la percezione alle persone che devono poi realizzarla di dove si vuole arrivare cioè se io ti mostro una mappa e ti dico guarda qua c'è Milano qua c'è Brescia voglio andare là parto qui voglio andare là è molto facile ecco una slide che Alexander mi ha mostrato qualche anno fa che a me piace molto è la differenza tra la mappa e il racconto di una mappa se io ti racconto ti spiego ti do le indicazioni su come arrivare da Milano a Brescia scrivo un testo molto lungo dove probabilmente avrò perso ti avrò perso a metà di quel testo se sei uno molto attento se io ti mostro una mappa e tiro una riga e ti dico da qui a qui voglio andare per andare lì è molto facile molto intuitivo e molto immediato quindi guadagni in espressività il mio consiglio è quando avete bisogno di chiarezza utilizzate l'intelligenza spaziale utilizzate la possibilità di mappare i concetti con dei punti di riferimento e le Worldline Maps sono secondo me un buon tool per utilizzarlo ancora una volta non è necessario essere talebani uno può anche introdurre delle customizzazioni se sono funzionali al proprio scopo grazie prego andiamo all'ultima domanda è possibile avere una lista di risorse libri articoli sì l'ho mostrato prima nelle slide poi comunque condivido le slide con Angelo che li pubblicherà sul sul canale e quindi se non avete preso i riferimenti li ritrovate nelle slide ok grazie mille Luca per un altro bellissimo talk che tra l'altro ricordo a chi magari non lo sapesse ma Luca tu ci hai già fatto un altro talk a novembre proprio su tema serverless quindi sul nostro canale YouTube lo trovate e in parte dai diciamo che si ricollega a questo argomento sì assolutamente perché una mappa che siamo a board e fa vedere spesso è proprio quella del computing e di come il computing sta evolvendo e quindi se io voglio costruire dei servizi che si poggiano che devono essere forniti probabilmente certe scelte sono migliori di altre perché sono più a destra nella mappa di world come elementi da consigliere elementi cosa še anche c'è un'altra che c'è il ministro un Syndrome Grazie a tutti.